Gentili telespettatori, buona giornata. Mirta Merlino sulla 7 seguiva principalmente la politica, adesso si occupa soprattutto di attualità. Fa un'intervista su Repubblica, Merlino ha risposto a una domanda che gli viene posta, cosa chiederebbe a Giorgia Meloni se dovesse intervistarla oggi. E dice questo, sono stata al concerto al Senato, mai vista Giorgia così magra, è la prima donna a Palazzo Chigi, è fiera e fragile, ha gli occhi puntati addosso e gestisce una vita privata complessa, ogni giorno ce n'è una e intorno non ha l'Accademia della Crusca. Questa frase non è una frase a caso, intorno non ha l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca è quell'istituzione italiana che si occupa della lingua italiana. In questa sorta di paragone, intorno non ha l'Accademia della Crusca significa che intorno non ha persone che sono all'altezza sua, non ha persone che possano farla brillare, anzi ha persone che realmente la mettono in problemi tutti i giorni, ogni giorno ce n'è una. Ogni giorno ce n'è una. I suoi fedelissimi parenti, amici fedelissimi, compagni di scuola, compagni di infanzia, ogni giorno ne dicono una. E lei deve schivare. Solo che guardate che andare avanti cinque anni, dove ogni giorno i suoi ne dicono una, provoca un danno d'immagine al governo, ma provoca un danno d'immagine soprattutto a lei. Perché alcuni conduttori come Floris cominciano a chiedersi, abbiamo sempre detto che la Meloni è diversa, ma siamo sicuri che sia diversa, perché questa classe dirigente è terrificante e il dubbio che ha Floris è che la Meloni non sia diversa da questa classe dirigente, sia semplicemente uguale e che alcuni l'hanno voluta dipingere come lei è diversa dai suoi. Questo è il danno che stanno facendo a Meloni. Questi suoi, i suoi, con quello che combinano ogni giorno, stanno portando cattiva luce a lei, a lei. Ed è quello che dice, per esempio, anche questa Mirta Merlino, dice, beh, ogni giorno ce n'è una e intorno non ha l'Accademia della Crosca. Eh sì, questo, come vi dicevo in questi giorni, è il risvolto della medaglia. Io vi posso dire una cosa, è una mia esperienza personale. Io sono cresciuto in una compagnia di persone che erano ex compagni di scuola, amici della prima ora. Sono cresciuto, sono andato avanti con loro per tanti anni. Siamo andati in vacanza, andavamo in discoteca, uscivamo il sabato, la domenica, la sera, di giorno. Solo che poi, piano piano, mi sono accorto che tra me e queste persone cominciava ad esserci una distanza sempre più forte. Io stavo crescendo in un certo modo e loro rimanevano o crescevano in un altro. Distanza. Alla fine è diventato proprio incompatibile. La situazione era diventata incompatibile, nel senso che nonostante l'affetto di persone con le quali ero cresciuto, affrontato tutte le cose nuove della vita con queste persone, era diventato poi incompatibile. Non avevo niente più a che spartire. Li guardavo, li sentivo parlare, ma facevo eh sì, eh, ma non c'avevo più niente da dire con queste persone. E li vedevo proprio con distanza. E alla fine ho dovuto distanziarmi. Credo che a Meloni questo non sia successo. Cioè, visto che il partito è andato avanti e cresciuto, lei ha dovuto poi convivere con queste persone forzosamente. Quindi credo che la Meloni abbia fatto un percorso simile al mio, si sia pian piano distanziata da queste persone, sia cresciuta, però lei poi non ha potuto allontanarle, perché queste persone sono rimaste con lei nel partito. Poi è andata al governo e ha preferito mettere nei ruoli chiave i fedelissimi come scudo. Giusto? Credo che oggi, col senno del poi, si sia resa conto che forse quelle persone dalle quali lei era diventata diversa e che ha messo come fidelissimi come scudo, sinceramente forse sono più controproducenti che producenti. Forse era meglio mettere persone che potevano all'improvviso cambiare faccia, però non l'avrebbero messa in questa situazione giorno dopo giorno. Ecco. Quindi oggi la Meloni, a differenza mia che mi sono allontanato, lei non si è allontanata per forza di cose, e si ritrova intorno, come dice Mirta Merlino, con queste persone che non sono proprio l'Accademia della Crusca, cioè con questa sorta di paragone pindarico, lei voleva dire che intorno non ha proprio questi fenomeni, ha un sacco di problemi tutti i giorni, perché intorno non ha questi geni della lampada, ha questi fedelissimi che però dovevano proteggerla e non creare problemi, invece la proteggono ma creano problemi che tendono poi a togliergli questa protezione, a metterla in cattiva luce. Meloni, dice sempre la Mirlino, che racconta cosa prova, frantuma l'immagine granitica e spiega quanto le sia costata la cavalcata gloriosa, sarebbe l'intervista del secolo, confessa. Beh, una Meloni intervistata che ti ammette che si è circondata di persone sbagliate, sarebbe un colpaccio per la Merlino, ma insomma, questa è la realtà, ma la Meloni non lo ammetterà mai che è circondata da persone non adeguate ai ruoli, ma avete visto che gli passano i fax con le date cubitali, gli dicono che Prodi era stato invitato ad Atreio e non è mai stato invitato e non è mai andato, vi ricordate che le hanno passato due comici russi al telefono, la Meloni si sta affidando di stretti collaboratori che poi gli passano i comici, gli passano il fax con una data grossa così e si inventano la data, gli dicono Prodi quando è venuta ad Atreio e quello dice io non sono mai andato ad Atreio. Ecco, capite il danno che stanno facendo queste persone fidate intorno alla Meloni? Non sono neanche capaci di passargli un fax con scritto una data grossa così, diversa da quella che raccontano? Questo è il problema. Grazie a tutti e arrivederci a presto.